domanda ho letto che in tempi passati ci fu una polemica tra gesuiti e francescani sulla possibilità che hanno gli animali di amare secondo i gesuiti gli animali non sarebbero in grado di amare nel senso che noi diamo alla parola secondo i francescani sì qual è la vostra opinione il fatto è che noi concepiamo l'amore in maniera diversa sia dal modo come lo concepiscono i francescani sia dal modo come lo concepiscono i gesuiti e dunque quale risposta vuoi una risposta che tenga conto delle due concezioni o che tenga conto solo della nostra della vostra allora noi diciamo che gli animali non amano come voi concepite l'amore gli animali sentono in base ai loro gusci istintivi sia pure non organizzati che sono i sensori di anime gruppo più o meno estese ciò non vuol dire che negli animali non sussista l'embrione della coscienza cioè l'amore perché c'è questa differenza tra l'amore umano e l'amore animale perché gli esseri umani concepiscono stati di coscienza che non fanno più capo a un'anima gruppo come accade per gli animali ma fanno capo all'anima individuale e quindi per l'uomo vi è una maggiore libertà di amare sia pure con maggiore o minore fusione con maggiore o minore passionalità con maggiore o minore percezione amorosa ciò non vuol dire però che il vero amore sia quello che riesce a concepire l'umano lo stesso vale per l'animale che non riesce ancora a concepire quello che per lui sarebbe il vero amore cioè quello con cui ama l'uomo quali animali si avvicinano di più ad amare come ama l'uomo gli animali che hanno una certa autonomia dall'anima gruppo cui appartengono che riescono cioè ad ottenere una certa collaborazione da un aspetto della loro anima gruppo e in quali animali esiste questa collaborazione con l'anima gruppo negli animali che sono a contatto diretto o indiretto con l'uomo quali sono gli animali domestici ad esempio che non sono tali a caso ma perché dimostrano una certa autonomia dalla loro anima gruppo e questo che cosa comporta che questi animali iniziano ad amare in maniera umana perciò l'evoluzione di questi animali consiste in un avvicinamento all'uomo l'avvicinamento è insieme l'effetto dell'evoluzione della loro anima gruppo e nello stesso tempo la causa della nuova evoluzione che acquisiscono vivendo a contatto con l'uomo ma allora chi ama gli animali chi è e chi per evoluzione raggiunta intuisce che proviene dal mondo animale e perciò concepisce gli animali come i suoi fratelli minori eccoci qua vi aici il prigioniero appare provato dalle recenti vicende ma assume un tono deciso è formale l'ho vista al processo se non sbaglio ha anche scambiato qualche parola con il pubblico ministero posso sapere il suo nome you can call me sir solo sir ok l'interlocutore risponde con un forte accento olandese il mio avvocato dice che non avrei dovuto accettare questo incontro ma io credo di doveva dire qualcosa ah meno male per chi lavori lavoro per la vita sir sono sostenuto da una grande energia che mi arriva dal mondo animale non spendo molto ed evito anche i consumi superflui sir si nervosisce ah sì certo dimenticavo ti piace apparire un mahatma un guru dell'animalismo e allora però chi ti ha addestrato militarmente questo puoi dircelo san michele arcangelo bh abbozza un sorriso mentre l'altro incalza o più semplicemente le assicurazioni o gli industriali del naturismo sappiamo che dietro qualche gruppo animalista ci sono i capitali dell'evoluzione internazionale